Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io ci siamo qui con la Lisa e la Ceci Ciao! Per la nuovissima challenge! Yes! Qua ci siamo con la Glass Bowl Challenge Bicchieri Palline Challenge Abbiamo qua una... Con questa... Spareremo delle palline assolutamente innocue di polistirolo Si, poliestere! Dovremmo cercare di metterle dentro a quei bicchieri là Eccoli lì Ci sono anche dei canestri Questi bicchieri qua vengono 20 Questo vale 50 e questo qua più piccolo vale 100 Eccoci qua ragazzi, prima manche, tocca a me Si Allora Allora, prima pittà 10 palline Aspetta che ti carico! Sei carico Luca? Carichissimo Dai, tutti i canestri Vai, tutti Dai Luca! Olè! E uno è fatto! E' un'altra parte Oh! Dai Luca! Vai, di là dopo! 30 un Oh! Ti c'è? Oh! Oh! Grazie all'alto! Oh! Oh! Dai qua, amici! Oh! 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 Ciao! Beh! Oh! 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 Similarly! Oh! 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 vai 100,100,100 non c'è ma dai 100 evviva 0 punti 100 punti no raga ma non c'è però hai messo l'impegno l'importante è partecipare eccoci qua raga nuova sceriffa in città yes tocca a me vai ceci andi ceci per te carica carica all'attacco che finì grande è un paio di cinema c'è la pallina si c'è dai ceci c'è ceci non va e va e non c'è chissà dove ho che ci c'è ho che ci c'è ah 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 aspetta eh questo c'è c'è ah 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 10 non male bella storia yeee yeee brava ciao ciao Lisa ora tocca a te yes dai Lisa e superami e fanno almeno 2 1.2 doppia carica Lisa vai prima di troveri quinta raga fa tu si davvero eh ooooo carica Lisa carica vai Lisa carica vai Lisa vai Lisa che ce la fai vai Lisa ooooo nooo quasi mamma nooo aspetta che non c'è la fai Lisa 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 uuuu ciao papà mancava pochissimo Lisa ce ne so più mhm vai 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 qua ne altre 4 qui eh uuuuuh ahahahah tu vuoi fare la camera ma non vuoi fare la camera ahahahah oddio vai Lisa uuuuuh eh quasi dai quasi guarda la fai che fuori vai Lisa vai Lisa vai Lisa uuuuuh 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 no raga uuuuh che pelo che pelo che pelo Lisa sei da grande vai uuuuh 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 chiudendo gli occhi wow uuuuh uuuuh grande Lisa bravissima uuuuh brava brava Lisa Lisa ha fatto 50 punti normale uuuuh vai Lisa ho detto male uuuuh uuuuh uuuuuh 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 uuuuh 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 uuuuuh hueso uuuuh uuuuh no uuuuh 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 Che volete perdere? Non vogliamo perdere Sono in visita io Ah sì, allora ti devo battere per forza Arrivo Eccola qua il mio amore Ehi ragazzi Che devo battere a te? Perderei Quanto hai fatto? Uno 20 punti Ragazzi, attenzione, mi chiamavano Carabinaggio Carabinaggio Stai cominciando un po' più bene Bravo Zero canestro No, non l'ho fatto Sì, l'ho fatto Lisa Sì, ha fatto così È entrato È uscito Non è rimasto dentro Perché quando uno gioca a pallacanestro La pallo rimane dentro E deve rimanere dentro Allora, è un canestro diverso E sono solo due tiri Attenzione Teoricamente hai già vinto Eh, ma voglio stravincere Eh, stravincere Non ce la farei mai Oh, ragazzi Vai, la finita Non ce ne ho più Ancora quattro Non ce ne sono più Ma bene Non ce ne sono più Ancora quattro Oh Zero Che erro Vai, 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 vai Forza, dai Che non ce la fai Vai, 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 vai L'ultimo vale doppio Tre vale doppio Hai sbagliato Hai sbagliato Hai sbagliato Sì, va bene Dai, Papi, hai vinto tu Però dai Ora vengo Perché mi fa male le braccia Qua filmare Tre, due, uno Eccomi qua, ragazzi Sono arrivato Io pensavo Visto che vostro padre ha vinto Colui che ha vinto Avrà un prank La prossima volta Sì Hai voluto accettare la sfida? Adesso Queste sono le conseguenze Prossimo prank Prank Bene, bene Sono contento Bene, ragazzi Speriamo che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Vedete un bel po' Le giorni su Sì, una bella palla E commentate qua sotto Con chi è il più bravo Ovviamente sono stato io il più bravo, ragazzi Ma che cosa ha detto Sono stato io il più bravo Allora, l'importante è partecipare Ma mi interessa Io sono stato bravo Sì E va bene, ragazzi Iscrivetevi ai vostri profili Instagram Che troverete qua sotto in descrizione Luca Sinway Ceciidia E Marco Punto Zanotti Sì Ma soprattutto Zanotti Underscore Lisa Soprattutto E noi ragazzi Ci vediamo in un altro video E... Ciao belli Aia Luca Soprattutto Soprattutto Grazie per la visione!